La semplificazione in che cosa si sostanzia? Tre elenchi, opere strategiche, opere pubbliche, rimane l'autorizzazione sismica perché è giusto che sia così, con un vaglio importante anche da parte del lato ufficio. Poi ci sono le opere di minore importanza, se così, le opere private in un certo senso, che vanno sottoposte al deposito sismico, cioè contestualmente si deposita agli uffici, si deposita la pratica e subito dopo si possono iniziare i lavori. Ed è qui la semplificazione? La semplificazione forte. E si passa un po' alla responsabilità anche molto più accentuata verso i tecnici liberi professionisti che devono asseverare una serie di cose, come è giusto che sia secondo me. Dopodiché un terzo elenco di opere prive dell'elevanza sismica, laddove si devono solamente segnalare queste opere così come si segnalano al Comune con una scia, la stessa cosa con una modulistica ovviamente preparata dagli uffici regionali, si porterà. Quali tipi di interventi prevederà o comunque potrà beneficiare della nuova semplificazione? Sicuramente si sta parlando molto di super bonus, di sisma bonus in particolare, è chiaro che queste pratiche che saranno inoltrate con i tempi rapidi che ci sono perché i lavori devono ottimarsi poi nel 31 dicembre del 2021, quindi voglio dire tempi molto ristretti, ovviamente per questi tipi di opere anche lì è stato fatto un protocollo speciale per seguire, che avranno una corsia preferenziale ancora più veloce queste tipologie di opere.